Isola dei famosi 2019, una lite tra naufraghi prima della diretta di giovedì Saranno isolani. . Una lite tra naufraghi è ciò che ha da sempre caratterizzato il reality ancor prima del taglio del nastro di partenza. Anche quest'anno ciò è accaduto. . Infatti è stata tagliente la tensione nella pianura maremmana, dove hanno trascorso il loro preisola i concorrenti di Saranno isolani. . A far discutere è stata, in particolare, Chiara, la fruttarola dei castelli romani, che ha provocato i propri compagni con pendolini e riti magici, scatenando il putiferio. . Nonostante Chiara non sia approdata tra i quattro finalisti della prima ma anche del reality, ne vedremo comunque delle belle con Yuri, Alice, Giorgia e Jonah. . Il cast completo. . Oltre alla lite tra naufraghi in prima battuta, lite nella penisola maremmana, è giusto presentare il cast al completo. . Un cast variegato, formato da otto donne e otto uomini determinati a vincere, che promette dinamiche scoppiettanti. . Per il gentil sesso sono schierate Marina Larosa, ex gatta morta del primo grande fratello, la modaiola Giosquillo, la modella Yoma Diacchite, la regina delle telenovelas Grecia Colmenares. . La valentina televisiva Demetra Hampton, le sorelle Mihailovic Virginia e Victoria e la showgirl Sara Altobello. . Gli uomini dell'isola saranno invece l'iudocca Marco Maddaloni, il cantante di Amici Luca Vismara, il figlio di Brigitte Nielsen-Aaron, l'attore Casper Caparoni, l'ex calciatore Abdelkader Gezzal, Riccardo Fogli, l'ex inviato Alvine e il giornalista Paolo Brosio. . Al cast ufficiale si aggiungerà il più votato tra i quattro finalisti del reality spin-off saranno Isolani, Giorgia, Alice, Yuri e Giona. . Le due opinioniste. . La lite tra naufraghi, ancor prima dell'inizio, è ormai di routine per l'isola dei famosi. . . Ma nel dettaglio scopriamo anche chi dagli studi di Cologno Monzese, insieme ad Alessia Marcuzzi, commenterà le gesta dei nostri avventurieri. . . Sono Alba Parietti e Alda Deusanio le due donne dell'isola dei famosi di quest'anno. . Ad annunciarlo Alessia Marcuzzi, che su Instagram ha svelato i nomi degli opinionisti dello show. . . . Il reality ripartirà il prossimo 24 gennaio con tante novità, non solo un cast stellare, composto da VIP emergenti e vecchie glorie, ma anche un team tutto al femminile pronto a commentare gli avvenimenti dell'isola dallo studio. .